Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale e bentornati ad un nuovo video. Oggi facciamo un pochino degli aggiornamenti sul canale, quindi quali sono le serie in atto, che cosa succederà nel mese di aprile, quali sono i piani per il canale e così via. Prima di iniziare però vi ricordo una cosa importante e ho fatto un video dove praticamente sto facendo un giveaway di alcune chiavi di Europa Universalis. Quindi trovate giù in descrizione il link con le informazioni, cioè o meglio, con proprio il link al video dove avrete tutte le informazioni su questo giveaway. Inoltre vi chiedo scusa che non ho la webcam, ma sto registrando praticamente la mattina stessa in cui questa si è rotta, mi è praticamente finita sotto un piede senza che vi racconto tutta la vicenda e si è rotta la webcam. Quindi io oggi avevo necessità di fare dei video e quindi sono senza faccia, ma sapete che la mia faccia che mi segue la conosce già. Allora, partiamo innanzitutto dalle varie playlist che abbiamo in atto, insomma, dei vari video. Allora, il primo sono la playlist delle recensioni. È una playlist che mi sta piacendo molto, ogni tanto porto un titolo nuovo e ne faccio una recensione. Portare una serie non lo so, perché sto pensando di portare sul canale delle miniserie, quindi vi chiedo di farmi sapere se, diciamo, la miniserie è una cosa che vi potrebbe interessare. Cioè, nel senso, cos'è una miniserie? È praticamente una serie di, una decina di episodi proprio massimo, di un gioco magari secondario. Per esempio, potremmo fare una miniserie su Timberborn. Ecco, sono sette, otto episodi, insomma, degli episodi comunque sempre da una trentina di minuti, ma contenuti che non porteremo con costanza sul canale. Non farò una miniserie di Crusader Kings o Earth of Iron o qualsiasi altro titolo di questi grossi che porto, perché comunque sono i titoli principali del mio canale. Quindi ho intenzione, diciamo, di introdurre questa nuova modalità che sono le miniserie. A me come te mi piace, perché dà anche un po' respiro al canale. Quindi spero che questo discorso sia anche di vostro gradimento. Fatemelo magari sapere nei commenti, chi vorrà esprimere una sua opinione, ovviamente io cerco sempre di tenerne conto. Per quanto riguarda Earth of Iron vi annuncio che siamo alla fine di questa campagna, quindi qualche altro episodio, e poi la campagna di Earth of Iron 4 con Bisanzio terminerà. Vedremo poi se iniziarne una nuova, ma c'è una piccola sorpresa per voi. Quella con Crusader Kings invece saranno almeno un'altra decina, forse anche di più, 10-15 episodi. La voglio finire perché mi mancava giocare a Crusader Kings e mi sta piacendo davvero davvero tanto. Per quanto riguarda invece Warhammer, su questo farò un video a parte, perché sono estremamente deluso da questo video, cioè da questo titolo, e droppo la serie. Uscirà un video speciale che ho registrato con la mia ragazza, dove lei proverà Warhammer per la sua prima volta, o meglio, proverà diciamo per la sua prima volta un titolo strategico, e sarà l'ultimo video di questo Total War Warhammer 3. E ritornerò poi con il Mortal Empire. Pensavo di tornare sul PvP, ma non mi piace. Comunque, in descrizione trovate poi il link al video dove io esprimo i miei disappunti su questo gioco, ovviamente dandovi anche una relativa spiegazione del perché certi aspetti non mi sono piaciuti. Ritorna anno. Ritorna anno 1800. E la serie, pa 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 pa, adesso la andiamo a pescare. Questa serie qui termina. L'abbiamo portata praticamente dal 19 settembre 2021. Siamo arrivati all'episodio numero 31. Come sapete per me questo tipo di serie è una serie che l'ho giocata per, come dico il termine io, per chillare, che è un bruttissimo termine, ma vuol dire per rilassarsi. Quindi è una serie che io ho portato avanti e praticamente ci siamo fatti la fine del Season Pass 2, se non sbaglio, e tutto il Season Pass 3. Quindi qua abbiamo iniziato il terzo Season Pass, l'abbiamo continuato con The Tourist Season e l'abbiamo terminato con le altre pitte, mi sembra si chiamano questa cosa, non me lo ricordo. Ora abbiamo fatto due live, tra l'altro, quindi l'abbiamo giocata parecchio. Ora la termino perché fare l'episodio numero 32 non mi va. Inizio una nuova campagna fresca, uscirà praticamente in settimana un video nuovo, che è una preparazione alla DLC che uscirà il 12 aprile. Quindi tornerà anno 1800 sul canale, con probabilmente un'altra trentina, quarantina di episodi, ma sarà una serie che all'inizio spingerò un pochino e poi la riprenderò nel momento in cui ritornerò al nuovo DLC. Quindi sarà diciamo una serie annuale, appunto, o semestrale, vediamo insomma come gestirla, a lungo termine, dove ogni tanto uscirà qualche episodio. Poi insomma vediamo se magari ci piace molto l'idea di anno, insomma lo portiamo in termini un pochino più fissi. Per quanto riguarda Stellaris, la volevo finire in live, questa serie, perché mi ha annoiato un po', sono sincero, mi ha veramente annoiato. È una serie che è carina, sì, però mi ha annoiato molto, sono sincero. Siamo arrivati al 2400, siamo parecchio avanti. Non lo so, non lo so. Non mi ha fatto impazzire, quindi... Tra l'altro questo è privato, quindi c'è, tra l'altro, c'è, non è ancora uscito in episodio 14, pensate un po', ma l'ho dimenticato di pubblicare, immaginate. E però c'è un episodio 14 che non ho mai pubblicato, per farvi capire quanto poi alla fine me ne sia... me ne sia dimenticato. Però ecco, uscirà questo episodio 14, poi magari vediamo se... se farne altri, ma onestamente non lo so. Ultimissima, ma non un'ultimissima cosa, è in programma, ovviamente, una nuova serie. Se avete visto un mio commento, cioè un mio commento, un mio post sul canale, nel momento in cui il giochino mi farà cliccare, non mi fai cliccare qui, per quale mi stai da ragione, FDF11, fammi cliccare, grazie. Tanto vedete quello che io di solito mi guardo. Vediamo anche come va il sondaggio in diretta. Ho messo una nuova serie, tra Europa e io mancate. Attualmente stai vincendo Europa Universalis 4, quindi se volete vedere una di queste serie, votate o l'uno o l'altro. Qua c'è un punto interrogativo, non lo so sbagliato, ma chi se ne frega. Ora, detto questo, i contenuti sul canale mi sembrano essere, insomma, stati detti tutti quanti. Quindi abbiamo queste due grosse serie che andranno avanti, diciamo che poi introdurremo un pochino l'anno 1800, che tanto questa qui andrà a scemare, e nel momento in cui scemerà Airsoft Iron 4, inizierà, insomma, con costanza la serie su Europa, o su Humankind, ovviamente, ho preso Europa, perché era quella che stava vincendo. E niente, poi è terminato Crusader Kings, vedremo se prendere Stellaris o Airsoft Fire, probabilmente riprendere Airsoft Fire. Ora, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, insomma, se vi è piaciuto, se sapete da esprimere un commento, un'opinione, un parere, quello che volete. Insomma, fatemi sapere il vostro pensiero, che mi fa sempre piacere, e noi ci vediamo ad un nuovo video. Ciao a tutti!